Per il Golden Retriever mi sento di suggerire essendo un cane di grossa taglia un formato un po' più grande. Andiamo a fare il bagnetto con lo shampoo universale adatto a tutti i tipi di manto e per un lavaggio frequente. Poi vi suggerisco in alternativa o in successione lo shampoo manti lunghi, uno shampoo particolarmente ideale per regalare pettinabilità al manto. Essendo il Golden un cane a pelo medio lungo e che tende a stare spesso fuori vado a suggerire quella che è una morbida crema idratante o meglio il balsamo districante e poi suggerisco assolutamente lo scioglinodi lucidante proprio come prodotto da utilizzare agitandolo bene prima dell'uso su tutto il manto anche più volte durante la settimana. Grazie a tutti.